eccoci ciao jessica ciao elena ciao ciao vai jessica parti in quarta con i tuoi punti prego allora il primo punto avevo messo la fiamma che direi che il punto più importante del momento incarnata dove se c'è possibilità di trovarla in questa vita ok tu ci hai mandato anche altri dati no sì 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 ok mai quel coi dati lì si può dire che ci hai mandato dei dati e è una persona che conosco da tantissimo tempo ma non abbiamo mai avuto nessun tipo di lega di legami di rapporto c'è di vista ci conoscevamo ultimamente per via della panne minchia e per il fatto del civac così ci siamo un po trovati e c'è un'intesa particolare porto mediata così e quindi siamo dai disincarnati però prima questi voglio io mai mia mamma ok perché tu padre e cognata no no come padre e cognata si 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 quello era il quarto punto che ti avevo messo perché il papà di mia cognata era un testimone di geova noi tutti in famiglia eravamo testimoni di geova poi ore sono uscita molto giovane non sono più praticamente rientrata e è stato adescato con una scusa mentre era nella sala del regno di dovergli dare dei documenti lui è andato da solo avevano già tentato in altri modi in altri posti ma erano sempre andati in due quel giorno lui è andato da solo ed è scomparso è scomparso hanno fatto delle indagini sono uscite delle tracce sataniche di una setta satanica ma sono usciti nomi molto grossi e quando sono usciti questi nomi molto grossi l'indagine è stata chiusa per poi chiedere che venisse riaperta e tutti i vari iter coi carabinieri ma in totale non è uscito nulla è scomparso nel ok ma motivo motivo non si è mai saputo niente nel senso che è scomparso gli hanno detto che dovevano ridargli dei documenti di un confratello lui è andato da quel giorno nessuno l'ha più visto né sentito è uscito anche hanno trovato in una casa in un bosco il suo nome scritto con il sangue la vernice rossa adesso non bene non so con dei segni di un rito fatto in questa casa in mezzo a questo bosco e appunto poi si sono collegati a questa setta satanica del torinese e sono usciti dei nomi di persone un po importanti e quindi i carabinieri dall'oggi al domani hanno chiuso la l'indagine e di questo uomo non si è più non si è più avuta nessuna traccia e più che altro appunto quello che ti mettevo nel nel punto 4 non era tanto capire cosa gli era successo per me più più o meno si può immaginare ma quanto di che nessuno più possa ripetere questa cavolo di esperienza che direi che veramente è una roba proprio brutta insomma padre di tua cognata quasi mia cognata si è stato avvenuto il 31 ottobre perché ha detto è scritto hanno scusami a 2005 ok ok allora punto 1 fiamma punto 2 ci sono nomi non direi ci sono tre persone molto vicine ricorrenti nella mia vita un mio compagno il mio compagno e due sono due mie amiche una di queste la seconda che ti ho scritto sembra che abbiamo firmato gli stessi contratti nel senso che entrambe le nostre mamme sono morte di sla su entrambi i loro certificati di morte hanno sbagliato a scrivere l'orario di morte abbiamo le stesse esperienze lavorative tutte e due lavoriamo nella gdo lei in una catena io in un'altra tutti e due i nostri papà hanno avuto il tumore nello stesso periodo cioè è una cosa fa quasi ridere talmente ricorrente in tutte le cose e invece l'ultima è una mia amica la mia collega ed è quella che mi ha portato a te con la quale ho firmato il contratto nella catena in cui lavoriamo eh lo stesso giorno ci siamo ritrovate poi dopo grazie di nuovo a questa questa situazione del cinivac perché entrambe non l'abbiamo fatto quindi c'eravamo un po' riunite a livello di negozio perché siamo state forzatamente divise a lavoro per via diverse mansioni diversi negozi e il fatto di essere ritornata di nuovo vicino a lei mi ha secondo me ehm aperto un po' l'orizzonte eh nel senso che mi ha fatto vedere le tue sessioni mi ha fatto ragionare su tante cose che sulle quali prima non avevo bene le idee chiare non è che adesso le abbia però sicuramente mi ha aiutato a capire un po' di più di ciò che ci circonda ecco mi piacerebbe sapere se sono anime compagni e di un'altra di altre vite ecco quindi compagno amica e amica collega la chiamiamo amica collega ok il compagno non è la fiamma cioè non è quella che tu io penso sia un anima a fine ma perché siamo comunque molto legati e però non penso che sia la fiamma che tra dialogo con la tua ps sì come posso sviluppare consapevolezza e dialogo con la mia ps che penso che in questo periodo storico ma in generale nella vita sia una delle cose più importanti e se sono in grado spero di esserlo imparare insomma tutto quello che di meraviglioso avete fatto come la d'eternum e l'eterna frequenza e ricca insomma cosa ti porta a pensare che non sei connessa alla tua ps cioè perché non lo si che non sia connessa come poterlo essere maggiormente ok uno o due esempi di connessione con la tua ps li hai da riportare quella volta in cui con la canzone che questo momento sì sicuramente ci sono tanti momenti per questo momento mi trovi mi colli impreparata non mi viene in mente nulla va bene altro il quattro vabbè era quello era era emo che abbiamo già detto era il signore che abbiamo già detto di simone di geova e il quinto ti avevo scritto che in base a come va la sessione se c'è qualcosa di importante da da dire da vedere sulla scena attuale o su di me perché in realtà volevo metterti tante altre cose però poi guardando le tue sessioni tante cose te l'avevo anche scritto perdono un po di importanza no tipo c'è stato un episodio in cui dall'esempio io ho aperto un negozio l'anno scorso e il negozio è andato male io dopo ho avuto frequenti attacchi di panico mi sono dovuta curare saluta dalla psicologo alla psichiatra però poi dopo che guardi tante tue sessioni ti rendi conto che dietro tante cose ci sono entità o ci sono e perde tutto un po importanza in vista di una pulizia energetica o in vista dello sapere che dietro a un dato episodio c'è dietro un entità perché dice ok però andiamo avanti quindi attacchi di panico diciamo sì che sono passati è che non ne ho più però mi sono dovuta andare da curarsi è stato un episodio bellissimo che avevo messo in uno dei punti una sera sono andata con l'ultima con la mia amica che lavora con me al mcdonaldi io fumavo e lei mi ha detto mi continuava a dire smetti di fumare abbassare le vibrazioni eccetera eccetera io ho spezzato una sigaretta dicendo fanculo moloch poi sono andata a casa non contenta ho fumato e durante la notte ho passato una notte tremenda mi sono alzata mi sono sognato delle cose bruttissime mi sono svegliata con dei lividi su questo braccio e ancora adesso mi fa male il gomito e te l'avevo messo come punto poi ripensandoci guardando le tue sessioni eccetera eccetera dico ok potrebbe essere stata un abduction potrebbe essere stato il mio il mio gesto di sfida che poi non ho portato avanti e quindi l'avevo poi tolto perché ho detto ok però in vista di una pulizia energetica chiediamo cose più importanti come il dialogo con la pista e ancora fumando adesso no quindi poi alla fine è smesso ma in quell'equazione no in quell'occasione no e non ha portato avanti la mia sfida perché adesso è smesso perché percepisco ma proprio tanto che abbassa le vibrazioni e vado proprio bassissima quando fumo è proprio tanto sì lo si percepisce proprio fisicamente dopo che uno ha avuto la consapevolezza dopo avervi ascoltato in tante occasioni parlare il tabagismo sì sì se uno vuole lo percepisce veramente che abbassa le vibrazioni va bene iniziamo ok attività timo microfono va bene sottramonto tramonto tramonto o sottramonto ok conto come sempre da 5 1 5 4 3 2 allora la vedo e lei la vedo di spalle è in riva a un lago e sta cercando di tirare i sassi per farli saltare sull'acqua cerca i piedi sassi piatti e poi cerca di tirarli ti dà l'autorizzazione sì sì ti vuole spiegare perché di schiena è come se lei fosse intenta lì è come se si volesse distrarre mentre noi c'è la sua volontà sarebbe quella di andare avanti a tirare i sassi mentre noi lavoriamo con la sessione no come se è talmente sensibile dice che come come se avesse paura di sentire troppo quindi deve distrarsi con un'attività sì ok in questo modo si aiuta o si danneggia secondo lei secondo lei e poi secondo te secondo lei in alcune situazioni non può fare altrimenti perché è troppo forte quello che lei sente troppo forte secondo me potrebbe assolutamente fare diversamente nel senso potrebbe allenarsi a sentire piano piano per vedere che poi è in grado anche di sentire le cose molto forti ok le ricordiamo che le cose molto forti sono un gioco adesso l'ho ricordato ok adesso si è girata e dice ok visto che è un gioco vengo con voi visto che ci siete voi diciamo un po più si sente rafforzata da noi ok le facciamo mettere nelle tasche tutte le fish che vuole per questo gioco iniziamo no ok il set coin si vibrazione 18 miliardi percentuale di consapevolezza 138 psp 39 61 vite precedenti 1987 cervello 9.4 bene eteriche se non lo vedi in ogni caso lo chiami mo loc se non c'è non era non era più collegato a jessica ma non era completamente fuori dal suo campo ok quindi è come se stesse in disparte ad aspettare il momento per poterle interferire nuovamente ci sono due uomini del tempo non c'è di noi dati ma tigre poi c'è un drago ma c'è un drago ma c'è un drago ma c'è un drago basta si edl 3 3 abbiamo bisogno di otto coin di jessica ognuna delle entità che è definito a una feritoia e le inseriamo questi otto monetine che si otto gettoni 2 negli edi negli uomini del tempo 3 nelle dl negli edl 1 in mo loc 1 nel filino e di 1 del drago nel drago lo rifacciamo perché di fatto jessica avendo deciso di fare l'esperienza con queste cose con questi giocattoli l'ha già deciso di fare il gioco con loro sì quindi lo rifacciamo simbolicamente sì ok quando lo inserisce in modo che che succede allora oltre a mo loc come che appare come interferenza quindi quella forma lì io vedo anche i dati i dati all'interno di mo loc ok quindi la secoli come vediamo lì facciamo un po wikileaks di mo loc cosa dobbiamo scoprire di mo loc che non dovremmo sapere c'è una sequenza di dati che è una sequenza di dati che si adatta alle vibrazioni della persona che vuole interferire questa sequenza di dati si adatta in maniera tale da creare la paura in quella persona quindi come se andasse a mettere io in eterico vedo come se si incastrassero delle lettere presente come quando si incastrano le basi azotate del dna una con l'altra per forza ok qui uguale c'è la persona con le sue vibrazioni che ne so di gioia o di serenità e lui per creare la paura in questa persona deve agganciare a queste vibrazioni che hanno le lettere della gioia della serenità le lettere di una forza opposta per far sì che diventi paura ma ci sono anche dei numeri sì sì lettere era per un esempio no una sequenza di caratteri qual è non so qual è il codice di moloch il numero di moloch qual è dentro allora c'è un numero che è come se fosse un una matricola direi no all'interno al centro 45 l 03 e che vuol dire allora l'ultimo numero tipo è come se aggiornassero software quindi è la versione 3 l mi fa vedere che l in base a tipo al periodo nel senso è come se per un po c'era la poi la b poi la c ecco una sequenza temporale e 45 è semplicemente la il numero di ripetizioni il numero di ripetizioni ce ne sono tantissimi e lui al 45 c'è c'è moloch e mentre noi lo chiamiamo quattro virgolette esiste anche da un'altra parte che interferisce tutti gli altri no ma come se questo codice per essere presente a interferire tutte le persone deve essere moltiplicato va bene quando jessica ha sfidato moloch circa il fumo l'ha sfidato davvero si è trovata poi dei segni sul braccio una notte molto agitata non ha smesso di fumare quel giorno in quel periodo ma ha smesso poi successivamente quando a piano piano preso consapevolezza del fatto che ci interino col tabacco e le riduce le frequenze e abbassa le frequenze sì allora col gesto che aveva fatto è stato un gesto molto forte e se lei non avesse ripreso in mano la sigaretta si sarebbe sganciata da mollo che come poi ha fatto dopo è proprio come se facendo un gesto nella matrix ok le alzasse le vibrazioni d'accordo di colpo in maniera tale che l'interferenza di mollo che quindi questo aggancio no con le vibrazioni no più più e forte e più io lo vedo spesso ok quindi lei con quel gesto di e come se ne avesse avesse tagliato metà di questo aggancio delle vibrazioni negativi dell'interferenza mollox su di lei poi però rifumando dopo si sono ricreate alcune ok ma quello che è successo durante la notte che la ps ha fatto sì che jessica facesse quel gesto della sigaretta non di rompere la sigaretta e quindi che fosse molto consapevole quindi di notte hanno provato a farle una d'action ok e la ps è però era sveglia e quindi come se ci fosse stata una vera e propria lotta e fisicamente lessi si è visto sulle braccia ha lottato col diavolo se non lo fa solo padre pio no ha fatto anche gestica non è stato anche jessica jessica pia causa esoterica delle attacchi di panico allora lì anche prima mentre lo raccontavo visto un pochino adesso lo visto più nel dettaglio come se in quella situazione lì lei si sentisse legata legata in più punti le braccia le gambe e la schiena ok e quindi in eterico vedo proprio come se lei cercasse di togliersi da quella situazione dove in eterico è legata e gli attacchi di panico era perché non riusciva a trovare la via il modo no proprio l'ansia la paura di rimanere incassata lì ha paura emoloca se va bene entità mentali allora una di livello 2 1 di livello 5 2 allora la rende un po incerta nella comunicazione con gli altri a volte c'è in eterico vedo che quando lei deve parlare con altre persone soprattutto se non sono se sono sconosciute è come se facesse fatica a legare le sue parole con con le parole dell'altro quindi questa entità sentita mentale fa sì proprio che la risposta non coincida con quello che che viene detto dall'altra parte no una discrepanza tra quello che ascolta e quello che è così esatta quindi rimane che rende un po confuso il discorso sì quindi la potremmo battezzare misunderstanding sì esatto 5 e 5 mi fa vedere proprio in eterico questa immagine di lei che è come se volesse mettere in eterico vedo che lei ha questa grossa come se avesse un grosso cerchio intorno con degli le specie di cappucci da cappelli che escono con delle braccia da questo cerchio che lei si porta intorno e con questi cappelli e questi cappelli li mette sopra le persone che lei vuole vicine come quasi se lei dovesse sentirle di presenza molto vicina lei sempre per essere tranquilla no è come se le mettesse sotto la propria ala per restare per essere sicura che stiano bene che stiano con lei come la possiamo battezzare una frase che è venuta è una chioccia di troppo però perché perché è come se lei volesse tenere al canta tutti per tenerli vicini come se dovesse covarle uova immagine quella ma ma che ho certo ma impianti c'è un disco con una piccola ricce piccolo disco con una rete in mezzo al centro della testa che fa sì che lei attraverso gli occhi percepisca un po la realtà purtroppo in maniera sensibile ecco quello che vedevo all'inizio no vede e sente tutto amplificato e questo è fatto apposta per renderla più vulnerabile più con variazioni di vibrazioni più alte in maniera tale che vada più spesso in vibrazioni negative per poterla interferire poterla tenere interferita poi allora prima quando c'era moloch aveva appunto questi impianti che erano allora i polsi alle caviglie alle spalle e poi ce n'erano tre sulla colonna che durante le abduction e durante il giorno quando aveva le vibrazioni molto alte come se venisse agganciato appunto queste catene e fosse tenuto a ferma lì prima adesso quelli non ci sono più e ne ha rimasto uno a livello del plesso solare e poi c'è ci sono questi due dischi qua intorno al collo fuori ok che vengono utilizzati dai due uomini del tempo per fermare e togliere degli eventi nella sua vita anche a distanza quindi le fanno a volte anche cambiare direzione basta ok i due uomini del tempo sono in effetti tra i due più importanti l'interferente due più importante che ha adesso li vediamo chiama se c'è la fiamma vediamo chi si presenta il compagno quello della foto nessuno o uno sconosciuto allora c'è ma è sconosciuto c'è sconosciuto non è quello che dice cari lo conoscevano né non sono nel suo compagno nell'altra persona lo vedo nord italia tra la lombardia e confine tra lombardia e tentino più o meno cosa lo mettiamo nel cinema viene sì se jessica lo segue perché è come se proprio fanno proprio fatica a stare distanti in eterico lei si è connessa quando a lui minuto dieci mesi fa un'occasione di dice ma vedo qualcosa legato al lavoro 10 più o meno dieci mesi fa ripreso a lavorare c'è una commissione può essere allora aspetta tu segui si fa parte scusa seguivi già maggio no ok fa parte dice penso che faccia parte comunque del lavoro dove lavora lei ma non la stessa mansione e quindi l'ha vista in poche occasioni mi viene da dire ok il compagno è anima gemella si anima fine anche anche la persona altra persona è un'anima fine di quinto livello l'altra persona si è il compagno un po meno 3 4 ok se lei volesse potrebbe trasformare il compagno in fiamma o dipende anche da lui o non è possibile è quando quando è di quinto livello superiore si volesse è molto più veloce perché sono a manca proprio poco nel senso che le ps iniziano già ad avvicinarsi quando è 3 4 si è possibile ma si deve essere essenziale che ci sia la volontà di va bene chiamiamo nel cinema appunto il compagno e due amiche una normale uno che anche collega si presentano se seconda fila in prima fila c'è il compagno e l'altra c'è la fiamma e l'altra persona in seconda fila ci sono le due amiche chi è la più o il più entusiasta allora più entusiasta è quella che ha la sua amica non collega è come se si sentisse c'è dato che hanno tantissime cose in comune che quasi sempre hanno tutto quasi tutto in comune è come se lei si aspettasse di vedere quello che può succederle ed i con questa idea no ormai abituata ad avere le stesse cose di jessica e quindi come se volesse vedere tra virgolette nel suo futuro ok chiamiamo anche i due figli se vanno prima fila come li vedi li vedo con sono seduti vicino al papà presumono che su compagno se il papà dei suoi figli vedo quando sembra però va sono sono molto ma non molto d'accordo se li vedo proprio perché li vedo proprio molto affini molto se padre del secondo non del primo ma è però è molto molto quello che infatti li vedo molto sì 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 sono proprio lì che se infatti vicini e che sono molto sono in attesa di vedere cosa vuole farle vedere fare vedere la loro mamma ok esistono delle vite passate che è jessica ha vissuto con quello della foto sì allora l'ultima vita che hanno passato assieme erano già una coppia meno affini erano una coppia meno finila e poi altre due vite una erano fratelli fratello e sorella e uno erano padre e figlio tutti e due maschi va bene disincarnati la mamma la mamma è arrivata con un'altra donna anche e dice di essere la mamma della sua amica la mamma della sua amica amica o amica collega amica amica mica 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 che è disincarnata che tu sappia jessica sì ok perché è venuto con lei è come se si fossero trovato di la sua malattia giusto è come se si fossero trovate a volte capita che si attirino i disincarnati con da che sono morti della sera avevamo già vista questa cosa più o meno sembra vero a che si raggruppano chiamando lei come se è venuta anche l'altra altra signora perché la fine nel cielo e disincarnati non brancolano il buio nel processo della parola quindi si attaccano a tutto quello che hanno simile quindi a un disincarnato qualunque che è stato in vita a un ubriacone si attacca a un ubriaco esatto se uno che ha la sventura di essere malato di poco si attacca chi è malato di gioco c'è comunque questa forma di se si si cosa vuole dire beh diamo una vicca tutti ok come le vede ma sì la mamma di jessica adesso dall'alto con la big si alleggerita e quindi riesce a vedere la sua vita dall'alto e vede che che è realizza adesso come è stata la sua diciamo di partita della morte no del suo corpo che è stata molto rallentata è come se quello che lei vede e che che prende come informazione è che il suo corpo si è come immobilizzato quasi una cellula alla volta ok piano piano fino a fermarsi tutto completamente e si rende conto che la sua ps aveva scelto una di fare un'esperienza di una morte così tipo degenerativa ma cerco di tradurti quello che mi fa vedere perché non è semplicità tra tre parole allora la sua scelta era quello di morire in maniera lenta no come c'è che il corpo morisse un pezzettino alla volta ok il fatto che la che la ps abbia scelto questo tipo di morte è come se per per la mamma di jessica forse fosse c'è da lì è un po stupita perché è come se la ps non avesse sincronizzato l'idea del tempo di morire un po alla volta con l'esperienza della di questa malattia che è degenerativa ma più velocemente no ok e quindi ha fatto questa morte più veloce è troppo presto ma gli altri punti in comune che ha con la con l'amica non solo appunto discussione le madri hanno una causa esoterica con l'amica amica se sto guardando allora ci sono tipo dei come se ci fossero dei collegamenti a ponte ogni volta che c'è un'esperienza uguale cioè come se le loro ps avessero fatto un patto per vivere parallele ok fare le stesse sperimenti tantissime esperienze uguali e agganciarsi insieme con una specie di arco che le collega in eterico per ogni esperienza no ok e quindi non possono vivere le stesse esperienze momenti diversi c'è anche la sequenza quasi la stessa no come per quello che è successo le madri le devono vivere con la stessa sequenza sulla stessa linea temporale nello stesso periodo e quindi questo che le lega ma vedo che è legato anche ad altre vite quali uno a caso c'è un attore ma è fatta guardando allora le vieto lavorare sono in questo ospedale psichiatrico direi a fine novecento e c'è qualcosa che fa sì che loro allora le vedo mentre lavorano e c'è tipo un problema con dei pazienti ci sono questi pazienti che non sono che non riescono a essere gestiti e quindi hanno tipo viene fuori un casino c'è proprio casino nella serie gente che si fa male c'è un'indagine direttore viene accusato e questo ospedale viene chiuso ma è che il direttore dell'ospedale qualcuno che conosce lei mi è venuto che è il direttore di dove lavora adesso lei sta piangendo da rivera sta cadendo dalla serie da rivera questo è lo spazio esatto nel senso che lì poi loro sono state no c'era questo direttore che accusava loro e quindi tipo hanno fatto un patto in eterico della serie ve la farò pagare una cosa del genere ed è come se in quel momento lì venissero legate assieme quindi poi ci sono stati questi archi che in questa vita hanno riprodotto e se pensano stare un po come i disincarnati che dicevamo prima che trovano delle analogie del tonne ok le sta addosso questo direttore ma un po tutti è di quella catena lì quindi battuto tutti san giacca non capito che quale la catena si fa la stessa è molto che non c'è al sud perché loro dicono non è rimunerativo e invece secondo me dico perché al sud ci sono delle realtà molto più sane nell'alimentare e nessuna esenzione di abbandonarle quelle realtà molto più sane quindi se uno si vuole compare una mozzarella fresca al sud la trovi e anche in fretta qua e fresca si si va bene su tutti che ci terranno addosso elena non direi parolaccia e quindi di disincarnati trovano una logica e dicevo e quindi anche noi poi diventeremo disincarnati e che ci uniamo più o meno sempre gli stessi dello stesso crack cluster no non è sempre così però no però perché questo perché diciamo tutto siamo l'uno ma quando veniamo qui siamo particolare il particolare il dettaglio siamo frammentati quindi per fare il massimo della dell'esperienza dobbiamo farla frammentata il più possibile per capire né sennò diventa sempre tutto molto vago molto generico e molto questo è un ambiente importazione in cosa i due uomini del tempo hanno rotto i cabisisi a jessica so cosa vuol dire capisisi grande sicilia allora beh innanzitutto hanno hanno sempre rallentato e deviato il suo incontro con degli uomini con cui lei ci potesse star bene quindi vedo le prime storie che erano proprio così con uomini con cui lei non stava bene e anche appunto anche col papà di suo primo figlio no che diceva adesso che non è il suo compagno sempre così no quindi hanno deviato la sua via vedo che la fiamma che adesso è quell'uomo che abbiamo visto che lavora nello stesso suo ambiente ok quando torno ai 15 anni era un altro era era un ragazzo che lei conosceva e che frequentava un'altra persona se un'altra persona ed è stata deviata dagli uomini del tempo perché jessica fosse non lo sa ma le fiamme la teoria per cui la fiamma è la metà della stessa mela e cioè abbiamo forti dubbi che sia vero le fiamme sono 345 non sono 100 sono tutte potenziali grezze chiamarle come vuoi e a seconda dell'intento di mille fattori possono cambiare sia nel corso della propria vita sia come in questo caso per esempio perché un'altra persona e loro hanno deviato dall'incontro sia sulla base di mille altri fattori in sostanza però se fosse proprio vero che può essere però una sola alla volta quindi di queste cinque uova una si può alzare può anche non alzarsi ma una e quando quella che si alza si alzata alle altre non possono salire non ci sono esatto esattamente essi sono ancora stanno giù quella che è salita non porta a casa nessun risultato per mille fattori torna giù sempre discorso intento sempre discorso desiderio sempre discorso creo io e non il rettiliano l'uomo del tempo il caso non subisco mai perché sono io che creo e non subisco mai nessuna decisione di altri peso e ben chiaro questa roba nella capoccia di tutti quell'uovo scende e ne sale un altro se vuole salire se vuole salire se si vuole che salga se di jessica mette il suo gettone dentro un nuovo uovo ricordiamo che questa sessione è dominata dai gettoni toro dei quiz televisivi anni 90 quanti fagioli contiene il parattolo da parte gli scherzi questi due uomini del tempo analizziamo li velocemente chi è più importante se c'è uno dei più dei due che è più importante in realtà con la persona alla pari allora io in realtà loro due sono diciamo quelli che fanno qua e se guardo dietro lontano c'è uomo del tempo che coordina l'interferenza jessica quindi volendo sono tre nel senso due che agiscono direttamente su jessica ma coordinati da un terzo uno agisce sul te uno dei due di questi quaggi sul tempo e l'altro sullo spazio come se fossero fare una cosa in tridimensione no ecco e quindi ogni volta che devono tenete via una situazione uno agisce proprio sul tempo l'altro sullo spazio perché uno modifica le caratteristiche della matrix mentre l'altro ferma al tempo e uno modifica le caratteristiche della matrix o viceversa a seconda di com'è la situazione a volte può essere che prima c'è la necessità di fermare il tempo e poi modificare la matrix a volte invece bisogna modificare la matrix e poi fermare il tempo fanno questa cosa qua va bene concludiamo con i disincarnati la madre vuole lasciare un messaggio a jessica quello che vuole dirle che si sentiva troppo aspettata con la parola no no si sentiva troppo disconnessa nella sua vita non so come dire il gioco si ecco bravo dissociata ok e quindi ha lasciato che la ps la portasse a morire ok le dispiace di averli lasciati così ma non poteva fare diversamente ma adesso è molto grata di averle fatto vedere come funziona tutto e di poterlo di poter andare nel portale aureo c'è anche la madre dell'amica si vuole lasciare un messaggio all'amica io non so se questo la tua amica vuole poi farò una sessione vuole farlo da sola pensi di sì vediamo se poi questa mamma dell'amica vuole andare o no beh quello che vuole dire è che si era presa troppo carico è come se il suo corpo fosse rimasto schiacciato sotto questo carico fianziano si è proprio come in eterico come se si fosse dissolto schiacciato dal carico ok si dice che se che le piacerebbe aspettare tra virgolette a salutarla direttamente bene salutiamo invece la madre di jessica che si vuole può andare nel portale aureo insieme tutti i parenti di tutte le generazioni di jessica e invece salutiamo l'altra tizia l'altra mano e c'è senza grandi analisi perché escono ma è abbastanza superfluo ormai poi chi vuoi che ci sia dietro testimoni di geova geova chiamiamo il padre della cognata abbiamo sentito quello che è successo chiamalo e arrivato arrivato è un po turbato ricca subito sì perché veramente quello che fa vedere pesante quindi vabbè è stato soggetto di sacrificio immaginano sì ma proprio tutta la cia tutta la carica di quel momento del sacrificio che che la ripete la rivivere ok noi gliel'abbiamo chiesta non la riviva mic a forma di gettone si giochi questa esperienza quanto per quanto dolorosa e lui che la scelta ok adesso vede tutto dall'alto e vede chi l'ha fatto chi gliel'ha fatto e ha collegato la sua la sua informazione è che lui essendo troppo ingenuo e genuino si è trovato in un guaio molto grosso e quindi ha imparato i due aspetti quindi farsi trascinare in un guaio grosso e l'ingenuità la genuinità stava tende poi non aveva visto chi gliel'ha fatto chi è tutto da sopra si vede tutto e ha preso queste informazioni ok uomo energia per lui si abbracciano si vede lascia un messaggio alla cognata di jessica cioè la sua figlia se mi dice di stare lontano appunto da da quelle persone anche testi ma di geova e che le sarebbe che la vuole salutare adesso visto che non ha potuto farlo in valle per l'abbraccia non va ma come la scena molto si sente l'energia dell'affetto e dell'amore proprio furo proprio selle gare un abbraccio proprio coinvolgente di amore per abbandono non c'è quella cosa lì no è proprio energia pura salutiamo che lui bello se no ok è andato andiamo al cluster al cluster con jessica se ci va dimmi come vede i contratti se ci va ai contratti sono ogni contratto è una pallina di spugna di spugna di lana cotta sembra rigida tutte colorate le tiene no no adesso parte al portale definitivo ok è venuta tutte dentro e poi l'ha chiuso benissimo una d'eterno un qua a forma di gettone allora lo crea di valore in piedi grosso così un gettone grosso e poi lo lascia cadere quando arriva fuori come se quando arriva per terra inizia ad uscire e iniziano ad uscire le vibrazioni altissime ad energia altissima o no è molto dispiaciuto perché ero un bel bottino jessica via no chiuso ha detto non è che qua se sta facendo ok adesso perfetto con queste nuove condizioni i due uomini del tempo il ferinoide il drago i 3 dl le due entità mentali i impianti le probabili penso ci fossero ad action c'erano sempre progetto come si chiamava ripartizione perché cercavano di prodotti fare con due cloni di rifare jessica e anche in due cloni a ripartizione tutto questo c'è ancora no nuova frequenza 235 miliardi nuova consapevolezza 187 psp e 6535 vite precedenti 1029 cervello 10.1 bene ottimi valori e grandi modifiche chi è la fiamma al momento al momento ancora la di prima mi fa vedere che ci sono delle caratteristiche in quella fiamma che sono quelle che ha che ha jessica interessano tanto ci sono delle caratteristiche di quella fiamma che che le interessano tanto e quali sono queste caratteristiche se si possono allora molta curiosità quindi che studia molto verso i suoi interessi e anche spazio anche molto con gli interessi quindi potenzialmente è aperto le un'evoluzione anche eterica c'è di tutti i tipi spirituale eterica energetica lei da 1 a 10 quanto desidera questa cosa da 100 comunque la fiamma sì non è tanto che desidera quella fiamma ma sono quelle caratteristiche che sono fondamentali sono due poi il resto anche no ma quelle due sono fondamentali mi dice mi fa vedere da 0 a 100 quanto credi 95 messaggio finale di jessica a se stessa vai vai sul sul fiume o al lago a ad allenarti a tirare i sassi mentre ti allene ad alzare le vibrazioni un'altra cosa che mi fa vedere non so perché con questi sassi però mi fa vedere jessica riva al fiume a un fiume che disegna con i sassi i suoi intenti i suoi obiettivi quindi che ne so la casa ideale disegna la casa ideale intento di non lo so trovare il modo per fare un lavoro più in nota così non lo so un lavoro più con sono a lei e disegna con i sassi una via che è la via che la porta verso lavoro in fondo poi c'è tipo il lavoro ecco quindi proprio come allenamento per imparare ad alzare le vibrazioni proprio giocare sentire i sassi ecco poi ma vedo fare delle cose creative all'interno di casa sua sui muri non lo so dipingere decorare i muri di casa sua un'altra cosa che dice ogni stanza un colore di ogni aspetto su ogni sua emozione c'è l'emozione che con cui le vibra di più in quella stanza ecco dipingere la stanza con quel colore di quell'emozione di per esempio la camera da letto la camera da letto la vedo con un'emozione di profonde quell'emozione di entrare nel profondo c'è quindi l'emozione pozzano di vera e meditativa dice se meditativa e me la fa vedere me la fa proprio vedere di un violetto lilla poi mi fa vedere il bagno con un blu blu azzurro più verso lo smeraldo ma non verde però un blu che tende così per esempio perché è dove lei si sente come se avesse un'emozione di trasporto quindi come se ci fosse un'onda ok mare dell'acqua sì esatto come se le emozioni seguono quell'andamento lì la cucina vedo un'emozione creativa e quindi mi fa vedere un rosa rosso anche la sala la vedo che è l'emozione dove c'è questo suo si sente bene nella vera che fare con i suoi figli in quell'ambiente quindi come se fosse l'ambiente ideale per giocare e interagire con i suoi figli e me lo fa vedere su un grigio azzurro tipo qua come se fossero anche nuvole ecco quelle sono le stanze su principali ok bene immagine finale quanti monete sono rimaste nelle tasche di jessica allora sono ci sono dieci monete e sono gli altri dieci colori oltre a quelli della casa è che sono quelli che lei deve spargere nella natura mentre va nella natura c'è quindi sincronizzare le sue emozioni con quei colori lì nei vari ambienti della natura quindi che ne so nel bosco c'è un colore il tratto c'è un altro come nella come nelle stanze della casa negli ambienti nella natura e lo farà sì 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 io vedo che lo fa anche nel concreto e cosa le anzi potrebbe questa cosa le porta a alzare le vibrazioni ea riconoscere le vibrazioni questa cosa fa sì che lei quando sensibile come ecco questo è all'inizio prima ce l'è molto sensibile e il fatto di sentire molto le cose la destabilizza ok questo al questo allenarsi e sentir le vibrazioni a seconda dell'emozione ok fa sì che lei riconosca le varie emozioni che quindi possa vivere senza averne più paura si allena nei vari con i vari colori e vari ambienti ultima frequenza e abbia finito posso dire un'altra cosa i sassi i sassi del fiume sono i gettoni ecco e bell'eco settima molo che sempre lì no non c'è più però se ne andiamo a vedere nel secondo universo la matricola di quel molo con cui abbiamo avuto a che fare oggi e ancora 45 l 0 3 adesso sarà è come se il numero lo tengono 45 cambia la lettera diventa m e 0 3 uguale perché non ha in questo momento il software non è stato aggiornato tra virgolette no quindi poi se sarà aggiornato ci sono 104 cambia il tempo cambia il tempo quindi non è l ma m però 45 perché c'è una sequenza di numeri di quantità va bene abbiamo finito quindi non smetto di registrare disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo a eccomi fatto tutto conto da una 55 se al tempo presente dal quadro ti sto parlando 1 2 3 4 e 5 apri gli occhi ciao 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 come stai elena bene vai jessica devi attivare tu il tuo microfono io non posso ecco come stai bene è stato molto interessante brava e nella mamma mia che si guarda mollo che tutto contenta immagina sarà spettacolo bellissimo fatto com'è che ramo e elena com'è che era era la sua sagoma nera e poi c'era proprio questo sovrapporsi della sua sagoma con i dati però alcuni rappresentano come anfibio alcuni come cane questo non è forse più calca nel solito si è bello ce la cantiamo la suoniamo e ci apprendiamo le mani da soli creiamo ci facciamo intersevo e poi diciamo è massima l'entità esatto e va beh ma chissene cioè così penso che uno si debba sconvolgere più di tanto cosa vuoi aggiungere in registrazione jessica perché questa la lasciamo no questa parte finale cosa vuole aggiungere è stato tutto molto bello non avevo avevo aspettative nel senso che ho lasciato che ero molto agitata però ha lasciato che uscisse quello che doveva uscire che andasse come doveva andare ed è stato veramente veramente bello sono metabolizzerai rivedite la ritroverai qui in skype scusa e noi chiudiamo qua restate ancora in linea ciao a tutti ciao ciao ciao